E' un amore fedele in ogni circostanza, che è un amore eterno, perché si è un amore e si consuma sempre, nella gioia, ma non solo, nel dolore, nella salute e nella malattia. Oggi il Signore ti mette accanto a Martina per sé, perché tu la ami e la custodisca e ti consumi per lei così Martina. Il Signore ti mette accanto a Martina e il tuo amore per lui deve essere un amore e si consuma. Il Signore ti mette accanto a Martina e 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 il Signore. Il Signore ti mette accanto a Martina e il Signore ti mette accanto a Martina e il Signore ti mette accanto a Martina